Nuove scene di scontri tra tifosi Terramani e Giuliesi, questa volta in autostrada, hanno riportato alla ribalta la questione della violenza legata al calcio. Dopo gli incidenti avvenuti in Via Cupa Giulianova a febbraio scorso, l'ultimo episodio si è verificato ieri al casello di Valdisangro sulla corsia a sud dell'autostrada. Decidi di automobilisti hanno ripreso l'accaduto con i loro telefonini, diffondendo poi i video sui social. Ora quelle immagini sono al vaglio degli investigatori. Nonostante le misure restrittive come i daspo, le condanne e gli scontri continuano a ripetersi, l'episodio è coinvolto i tifosi biancorossi in viaggio verso Agnone per sostenere la propria squadra e quelli giallorossi diretti a Vasto. Nei video si vedono tifosi con il volto coperto da caschi e armati di bastoni scendere dalle auto e dirigersi verso gli altri supporters, anche essi scesi dai veicoli fermi sulla corsia d'emergenza, dando il via agli scontri. All'arrivo delle forze dell'ordine, allertate dai numerosi automobilisti presenti, i tifosi si erano già dileguati. Gli accertamenti si concentrano ora sulle immagini che, come già avvenuto a febbraio per gli scontri di via Cupa, documentano l'escalation di violenza. In seguito agli scontri di febbraio, la Questura aveva emesso 26 d'aspo contro altrettanti ultra, di cui 17 terramani e 7 giuliesi, oltre a due tifosi terramani identificati dai carabinieri di Giulianova. Per alcuni dei destinatari dei provvedimenti già recidivi, era stato anche disposto l'obbligo di presentarsi alla polizia in occasione delle partite.